buonasera a tutti bentrovati questa è la seconda versione ho fatto un compito a file dell'esercizio mar 004 e lo chiamerò mar 005 è sempre un sommergibile che deve attraversare lo stretto di messina bisogna calcolare la corrente intermedia due esercizi sulla corrente un piccolo esercizio di pianificazione leggiamolo il sommergibile bellosi della marina militare italiana deve trasferirsi da cagliari a bari quindi cagliari bari considerando che il tratto relativo dello stretto di messina deve essere percorso in emersione che il comandante può mantenere una velocità propria di 5,8 nodi chiamocela subito vp uguale 5,8 kn effettuare la pianificazione quindi qua dobbiamo scrivere nord stretto ovviamente c'è il percorso dello stretto poi sud stretto quindi dobbiamo navigare dal tirreno allo ionio ok abbiamo tutti i dati distanza cagliari nord stretto 321 nautical mile 17,2 è la distanza che bisogna percorrere in lungo all'interno dello stretto nautical mile 317 nautical mile invece è la distanza sud dello stretto a bari d'accordo una volta passati allo ionio è chiaro che dobbiamo passare nell'adriatico bari adriatico ok però a noi interessa dal tirreno allo ionio ovviamente per il discorso delle correnti di marea il comandante intende passare con una corrente a favore maggiore di 2,8 nodi quindi vc della corrente deve essere maggiore o uguale di 2,8 kn velocità di crociera all'esterno dello stretto 15 nodi quindi qua scriviamo v crociera uguale 15 kn velocità di crociera uguale 15 kn qui la velocità effettiva della nave deve essere 5,8 più 2,8 quindi in totale deve fare 8,6 nodi 8,6 kn chiaro che poi se la corrente aumenta io riduco la velocità propria però rimango sempre su 8,6 nodi voglio fare l'attraversamento a questa velocità ci possiamo fare subito una prima pianificazione senza fare l'esercizio sulla corrente 321 diviso 15 viene 21 ore e 24 minuti delta t uguale 21 ore e 24 minuti chiamiamolo delta t1 poi qui 17,2 diviso 8,6 è abbastanza facile vengono due ore quindi qua sono due ore delta t2 uguale due ore poi dobbiamo fare delta t3 delta t3 uguale 317 diviso 15 uguale 21,13 periodico 21 ore e 8 minuti 21 ore e 0,8 minuti sappiamo già quindi le differenze di tempo per un tratto e per l'altro adesso dobbiamo ragionare noi disegniamoci prima lo stretto questo è la parte di messina e questa è la parte di reggio calabria cioè di ovviamente villa san giovanni immaginiamo i traghetti che fanno questo percorso bene questa corrente è la corrente entrante mentre questa è la corrente uscente siccome il nostro sommergibile ad andare da nord a sud dello stretto in pratica dobbiamo scegliere la parte della giornata con la corrente uscente e qui c'è scritto questi sono i dati pianificare l'accesso allo stretto al primo momento utile a noi serve l'uscente quindi dobbiamo prendere semplicemente questo periodo primo momento utile quindi in questo caso dobbiamo fare un angolo di 90 gradi questa volta lo facciamo per bene ok questo è un angolo di 90 gradi e abbozziamo un arco di circonferenza angolo di 90 gradi ok mi dispiace che ho disegnato sopra il disegno precedente va bene attenzione qui dobbiamo mettere i valori mezzanotte 24 stanca e 0706 la velocità corrente massima v max uguale 5,8 kn bene noi dobbiamo trovare il valore della corrente di 2,8 mettiamo un angolo a caso lo chiamiamo alfa sappiamo già che questo è 2,8 2,8 kn è chiaro che questa è l'incognita questo orario qui è l'incognita quindi che cosa dobbiamo scrivere adesso? dobbiamo trovare alfa nella trigonometria questo è il raggio questo è il raggio e questo se il raggio fosse 1 sarebbe il seno in realtà se io moltiplico il seno per qualsiasi raggio ottengo il lato opposto regola della trigonometria quindi qua che cosa devo scrivere? attenzione raggio per seno di alfa uguale 2,8 kn il raggio però è la v max quindi v max per seno di alfa uguale 2,8 kn facciamolo piano perché è una spiegazione 5,8 per seno di alfa uguale 2,8 kn 5,8 ovviamente nodi dobbiamo trovare il seno di alfa dividiamo tutte e due le parti per 5,8 quindi seno di alfa uguale a 2,8 kn diviso 5,8 kn il seno è senza unità di misura quindi 2,8 diviso 5,8 il seno viene 0,48 eccetera eccetera facciamo shift seno alla meno 1 che sarebbe l'arco seno e troviamo 28 gradi alfa uguale 28 gradi 51 primi 56,62 secondi questo è l'angolo alfa questo qui è l'angolo alfa benissimo adesso possiamo fare la proporzione per trovare questo orario bene 90 gradi qual è la differenza 0,7, 0,6 e 0,024 facciamola subito 7 ore 0,6 minuti meno 0 ore e 24 minuti la differenza è 6 ore a 42 quindi qua dobbiamo scrivere guardate 6 ore 42 minuti sta a 90 gradi come questo delta t minuscolo non lo sappiamo il delta t grande è 6 ore delta t maiuscolo è 6 ore e 42 come attenzione dobbiamo mettere delta t minuscolo uguale scusate sta a 28 gradi 51 primi 56,62 secondi facciamolo con la calcolatrice il prodotto degli estremi di sol medio 6 ore 42 minuti per 28 gradi 51 primi 56,62 secondi uguale diviso 90 gradi 90 gradi uguale 2 ore 8 minuti 56 secondi approssimato delta t minuscolo uguale 2 ore 2 ore e 0,9 minuti dobbiamo aggiungerlo a mezzanotte e 24 più quindi 2 ore 0,9 minuti più 0 ore 24 minuti uguale le 2,33 quindi dobbiamo fare il primo ingresso utile è 0,2 ore e 33 minuti nel filmato mar 004 qui ho commesso un piccolo errore perché ho calcolato bene questo 2 ore e 16 invece qui ho aggiunto 2 ore e 13 un piccolo problema di dislessia dovuto all'anzianità devo andare piano quindi 2 ore e 33 minuti sono l'ingresso del canale grazie a questo con un'altra penna adesso possiamo mettere 0,2 ore e 33 minuti al nord dello stretto dobbiamo andare indietro nel tempo però non lo possiamo fare perché viene un angolo un tempo negativo attenzione che questo è il 20 febbraio quindi qua dobbiamo mettere 20 0,2 se ci facciamo prestare 24 ore questo diventerebbe il 19 febbraio quindi 2 ore e 33 minuti più 24 ore uguale meno 21 ore e 24 minuti quindi dobbiamo partire alle 5,09 alle ore 0,5 ore 0,9 minuti di che giorno professor? del 19 0,2 24 per fortuna per fortuna qui dobbiamo fare semplicemente una somma usciamo dalla stretta alle 4 ore e 33 minuti eccolo qui e qui anche qui dobbiamo fare una somma 4 e 33 4 scusate 4 ore 33 minuti eccolo qua più 21 ore 21 ore e 0,8 minuti uguale 25 ore e 41 esistono 25 e 41? no togliamo 24 ore sarebbero l'1 e 41 quindi l'arrivo è 0,1 ore 41 minuti di che giorno professor? del giorno dopo quindi 21 0,2 24 questo è l'arrivo a Bari pensate che questo è ho finito di fare la pianificazione però il professore che è cattivo vuole sapere il valore della corrente per l'orario presunto di uscita dallo stretto quindi qua devo aggiungere due ore immaginare che sia questo l'orario allora qui in pratica questo vi ricordo che il delta t questo qui era di 2 ore e 9 minuti 2 ore e 0,9 minuti più 2 ore 2 ore quindi so subito scriviamolo qui in rosso delta t primo uguale a 4 ore e 09 minuti va bene ho 4 ore e 0 ore e minuti dobbiamo calcolare questo questo valore della velocità della corrente attenzione 4 ore e 09 minuti quindi scriviamo qua la proporzione è la stessa però abbiamo dobbiamo trovare alfa in questo caso lo chiamiamo alfa primo d'accordo quindi cosa scriviamo qua 6 ore e 42 minuti sta a 90 gradi come delta t stavolta lo conosciamo 4 ore e 09 minuti sta ad alfa primo prodotto dei medi diviso l'estremo 90 gradi per 4 ore e 09 minuti uguale 37 e 35 diviso 6 ore 42 minuti uguale viene un alfa alfa primo di 55 gradi 44 primi 46 virgola 57 secondi allora questo come sapete benissimo è il raggio della circonferenza che è uguale alla v max come abbiamo visto prima questo lato se il raggio fosse 1 sarebbe semplicemente il seno siccome il raggio non è uguale a 1 è r per il seno di alfa primo quindi la velocità della corrente a quale ora promesso 4 ore e 09 minuti 4 ore e scusate alle ore 4 e 33 perché queste sono le ore 0 4 ore e 33 minuti la velocità della corrente alle 0 4 ore e 33 minuti è uguale a cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo fare v max per seno di alfa primo andiamo a farlo subito v max quant'era presto 5,8 per seno di questo grado qui 55 gradi 44 primi 46,57 secondi eccolo qua uguale 4,794 approssimato velocità corrente alle 0 4 e 33 uguale 4,794 approssimato a 4,8 kn quindi durante il passaggio dello stretto noi passiamo da una corrente di 2,8 quindi qua scriviamo velocità corrente 2,8 qui scriviamo velocità corrente uguale 4,8 possiamo ridurre la velocità propria in modo da mantenerci con la velocità effettiva sempre 8,6 così manteniamo una velocità costante all'interno dello stretto però aumentando la corrente possiamo ridurre la velocità propria in maniera graduale ovviamente ecco qua finito il secondo esercizio dello stesso compito ho dato il compito per file di una classe quinta abbiamo ripassato a come si fa il calcolo della corrente di marea i due esercizi simili della corrente di marea uno opposto all'altro vi ringrazio per l'attenzione spero di aver fatto la cosa gradita un bacio a tutti buona serata di marea